L'Aquila è una città viva, reale, uscita finalmente dalla situazione di emergenza. Il 2023 per il Comune è stato l'anno delle certezze. È il succo del bilancio di fine anno del Sindaco Pierluigi Biondi, che ha tenuto una conferenza a Palazzo Margherita con la sua giunta. Ci sono ancora problematiche, ha detto il Sindaco Biondi, che ha elencato i risultati settore per settore. Altre ne arriveranno, ma possiamo dire che siamo costantemente al lavoro. L'aspetto più importante è che è stato approvato il bilancio, e questo per la seconda volta, nei termini del 31 dicembre, grazie all'intervento del Governo per le minori entrate e le maggiori spese. Il Governo Meloni, che ha finalmente attenzione per l'Aquila, ha spiegato Biondi. E poi davvero tantissime le novità in tutti i settori, gli interventi fatti e quelli da fare. Ci saranno anche novità per l'Aquila, con un accordo che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzza e Palazzo Chigi, con i fondi FSC, che sarà annunciato successivamente. È un bilancio positivo, pur nelle mille difficoltà che una città come l'Aquila vive quotidianamente. Ci sono stati dei risultati importanti, ne cito alcuni solamente. La delibera Cifes, che riguarda le scuole della città, che ha stanziato oltre 30 milioni di euro. La previsione nella legge di bilancio per il 2024, legge di bilancio nazionale, che istituisce un fondo perenne da 10 milioni di euro per le minori entrate e le maggiori spese connesse al sisma dedicate al comune dell'Aquila. E poi la capacità che abbiamo avuto di coinvolgimento del tessuto produttivo nel partecipare ai bandi della macromisura B del fondo complementare, bandi per oltre 80 milioni di euro che vedono coinvolte oltre 200 aziende del territorio. perché sappiamo che al di là dell'attività amministrativa, se in città non c'è produzione, non c'è sviluppo, non c'è lavoro, la città non si può dire completa.